Le cose della vita richiedono tempo. In un mese dormi per ben 10 giorni. Trascorri 7 giorni su 30 davanti al computer. Passi quasi 4 giorni al telefono e le code agli sportelli ti tolgono circa 2 giorni del tuo tempo. E se volessi modificare l'attività della tua impresa o avviarne una nuova, quanto tempo ci metteresti? Con le camere di commercio ti basta un giorno. Grazie allo sportello unico per le attività produttive puoi aprire un'impresa da un unico ufficio. Ma con le camere di commercio allo sportello SUAP diventa disponibile anche online sul sito www.impresainungiorno.gov.it. Così puoi risparmiare ancora più tempo inviando online in una sola volta tutti i documenti necessari all'avvio di una nuova attività. Il servizio è semplice e le procedure sono standard. Basta avere la carta nazionale dei servizi, la firma digitale e puoi fare tutto da solo. Ma se lo preferisci puoi sempre farti aiutare da un professionista o da un'agenzia delle imprese. Sono già 100.000 gli imprenditori che fino a oggi hanno avviato un'impresa con gli sportelli online delle camere di commercio. Per informazioni chiama il numero verde 199 50 20 10 o manda una mail a helpdesk-impresainungiorno.it. Se hai un'idea per la tua impresa, non perdere altro tempo. Ci vuole molto meno di quello che pensi.